È sempre stato considerato un borgo tranquillo e da anni le campagne elettorali pongono al centro dell'attenzione proprio la questione sicurezza. Ma nell'ultimo periodo Soncino non è poi così sicuro. Solo tre giorni fa i carabinieri hanno denunciato per lesioni personali aggravate due stranieri ed un italiano, tutti tra i 19 e i 22 anni, ritenuti responsabili di aver aggredito e ferito un giovane la sera tra il 9 e il 10 settembre scorso. Alla fine di agosto poi una risa tra ragazzini avvenuta nella notte aveva fatto finire al civile di Brescia un quindicenne colpito da un coccio di bottiglia. Sappiamo di tristi episodi di cronaca dove diversi gruppi di giovani, quelli che ad oggi si definiscono un po' immaranza, compiono o comunque si ritrovano coinvolti in risse ed anche spesso in comportamenti non rispettosi sia verso il bene pubblico ma anche verso le persone che hanno il diritto di riposare, tant'è che una forneria proprio qua in piazza che teneva aperto proprio per i ragazzi anche il sabato notte ha deciso dopo i ripetuti episodi di chiudere il sabato sera e non tenere più aperto. Riteniamo che troppo poco venga fatto da parte di questa amministrazione sulle fasce giovanili, che hanno poco spazio, non hanno luoghi ad esempio dove ritrovarsi per fare sport insieme, non lo so, in molti chiedevano ad esempio uno skate park che non esiste, per fare musica insieme, sono veramente pochi gli spazi per cui i ragazzi poi si ritrovano anche in zone o in parchi adibiti ai bambini o comunque in zone appartate del comune o comunque ormai anche ad orde nelle vie del borgo facendo chiasso e comunque disturbando la quiete pubblica. Mancano gli spazi ma manca anche una progettualità, un'educazione alla legalità e anche un'educazione al rispetto e a dei comportamenti di crescita sani.